. Palermo, titolare di una pescheria rubava energia elettrica, arrestato. Danno da 8000,00 euro. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per il reato di furto aggravato Arcuri Salvatori, nato a Palermo, classe 1966, IVI residente. . Con l'ausilio dei tecnici Eneli Carabinieri hanno accertato che l'uomo sottraeva corrente elettrica tramite un cavo bipolare collegato abusivamente alla rete Enel per rifornire la sua pescheria seta nel quartiere di Borgo Vecchio. . Tutta l'attrezzatura in funzione quale, la cella frigorifero, il banco frigo, il banco congelatore usufruivano dell'energia elettrica senza alcun onere costo. Il danno patito dalla società erogatrice è stato stimato in circa 8000,00 euro. . Arcuri è stato trattenuto presso i locali del comando, in attesa del rito direttissimo. Dopo la convalida dell'arresto è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps. . .